È la prima intervista ufficiale per l'Avvocato Enzo Lucifora, per quel che riguarda il nuovo incarico a Lanciano. Una sfida importante, a microfoni spenti. Avvocato mi dicevi, non mi piace perdere, voglio vincere spesso e volentieri. Per mia natura, durante la mia lunga carriera, non ho mai giocato per partecipare ai campionati ma per vincere. Non l'avevo vinto sempre, ma comunque le mie squadre hanno sempre lottato per fare bene. Mi ricordo diverse sfide con il Lanciano, quando stavo con i Chieti, quando stavo con la San Benedettese, quando stavo con l'Avellino. Ero amico del Presidente Enzo Angelucci, del figlio. I tifosi mi conoscevano, mi fermavano per la strada. Parlavamo di calcio, anche perché ero ex pescarese, ex chietino. E quindi ho avuto sempre un rapporto, diciamo, di simpatia e poi sentivo nei miei confronti, da parte della deposeria lancianese, tanta stima e tanta cordialità. Lo percepivo anche quando entravo in tribuna a vedere le partite di Serie B, le persone sedute in tribuna si giravano e mi salutavano e quindi mi gratificavano della loro stima. Avvocato, ieri un piccolo grande scossone in casa Lanciano perché il direttore sportivo Miccoli e l'allenatore Damiano Cianfagna con un comunicato hanno diramato la loro volontà di abbandonare il progetto Lanciano. Dopodiché che cosa è successo? Immediata la telefonata della proprietà al suo numero per convincerla ad accettare oppure è bastato solo un piccolo squillo per decidere? I miei personali che sono lì ad esporre io ho accettato prima perché quando Piccione era proprietario del Pescara mi mandò a Pescara dove ho fatto un buon lavoro penso e mi ha rispettato sia l'ultimo centesimo i suoi impegni nei miei confronti. Seconda cosa perché spesso mi chiamava anche per piccole consulenze a Grosseto e altri. Adesso questa sfida perché a me le sfide mi piacciono mi ha in un certo senso caricato ai dire di sì perché Lanciano è una piazza importante dell'Abruzzo, ho fatto l'ambico per il Pescara, tra dell'apparizione del Castello di Sangro che non fa parte della categoria di eccellenza e poi conosco la piazza, conosco il calore della tifoseria, conosco la competenza della tifoseria. Io chiaramente cercherò di costruire una squadra che dia delle soddisfazioni alla città, alla società, a me soprattutto che farò dei sacrifici per poter essere presente sul campo. Durante la settimana avvocato la società ha chiesto ovviamente di strutturare una squadra importante a partire dall'allenatore, so senza fare nomi che già nel pomeriggio ci saranno degli incontri per decidere la figura che guiderà questa compagine, ma possiamo fare una piccola promessa ai tifosi, che squadra sarà? Competitiva oppure un anno di transizione? No, no, io la transizione non ci credo, non credo ai programmi di due o tre anni, quando si dice io tra due o tre anni saremo promossi, è che te l'ha detto. Il calcio è fantasia, è inventiva, è imprevedibilità, bisogna costruire le squadre con razzioscirio, con equilibri tattici, poi sarà il campo a dire se hai fatto bene o hai fatto male. Ma a dire programmiamo due o tre anni, ci sono frasi fatte da Bad dello Sport. A proposito di campo, direttore, lei sa benissimo quello che sta succedendo, che è successo a Lanciano per quel che riguarda l'affidamento del Biondi, dello stadio. Ecco, anche sotto questo punto di vista vi state muovendo per cercare una soluzione? Lunedì sarò a Lanciano, parleremo col sindaco e col presidente della lega direttante Abruzzo, per risolvere questo problema. Comunque sarà risolto, non sarà il campo il problema principale di questa nuova stagione? No, no, di qualche maniera si parte. Grazie a tutti.